Buongiorno ragazzi, oggi volevo condividere con voi la pazzia che ho scelto di fare quest'estate. Dopo aver completato l'anno scorso il Kungsleden, un cammino che mi ha portato ad attraversare quasi tutta la Lapponia svedese, 440 km immersi in paesaggi mozzafiato e una natura incontaminata. Piccola digressione, subito iniziale, se vi siete persi i video di quella bellissima avventura, vi lascio i link in sovraimpressione ma anche nella descrizione di questo video che dovete assolutamente recuperarveli. Invece per quest'estate ho deciso di alzare ancora un pochino l'asticella e di provare ad affrontare il Come Mine. Il Come Mine è un percorso di 650 km che attraversa tutti i Balcani della Bulgaria da ovest a est. inizia al Pizzocom appena vicino alla città di Bercovizza e finisce sulle sponde del Mar Nero a Chepe Mine. Come già appena accennato, questo cammino attraversa tutti i Balcani della Bulgaria ed è il più lungo cammino europeo d'alta montagna. L'altezza media del trail è di circa 735 metri ma si è anche spesso sopra i 2000 metri. Una delle parti più difficili è il dislivello complessivo, ovvero sono più di 23 km di salita e ovviamente più di 23 km in discesa. Quindi avendolo pianificato di riuscire a percorrerlo in circa 20 giorni, pianificato non sono sicuro di riuscire a starci anche in 20 giorni, avrò più di 1000 metri di salita e di discesa ogni singolo giorno. Nei 20 giorni complessivi includerò circa due giorni di pausa, due zero day perché il cammino come detto sarà tosto quindi avrò bisogno di qualche giorno di pausa. Ho già programmato, ho già spedito dei pacchi di cibo lungo il percorso e quindi partirò circa con nel mio zaino il cibo per i primi 5 giorni dopodiché ho un rifugio a cui ho spedito un pacco di cibo e avrò un rifornimento per altri 5 giorni dopodiché avrò 5 giorni senza cibo, ovvero non è che sto 5 giorni senza mangiare ma mi dovrò affidare alle provviste che potranno fornirmi dei rifugi lungo il percorso e poi gli ultimi 5 giorni, prima di affrontare l'ultima sezione, gli ultimi 5 giorni attraverso la città di Kotel, o Kotel non so come si dica in bulgaro, dove c'è un secondo pacco che mi aspetta con altri 5 giorni di rifornimento. Anche quest'anno per raggiungere il punto di partenza di questo true hike e anche per poi tornare a casa mi affiderò completamente ai treni, quindi viaggerò completamente su ferro, su ferrovia, attraverso ben 5 nazioni e i chilometri complessivi saranno 3866 di cui saranno spalmati in 12 treni. Il mio viaggio di andata inizia a Brescia con un treno notte che mi porterà a Vienna, dopodiché da Vienna con un treno arriverò a Budapest, avrò qualche ora di pausa e prenderò un altro treno notte che da Budapest mi porterà a Vidin, una piccola città della Romania, da lì da Vidin a un'altra piccola cittadina della Bulgaria e da lì, di cui adesso non ricordo minimamente il nome, e poi da lì l'ultima tappa mi porterà a Bercovizza all'inizio del trek. Passerò una notte lì a Bercovizza giusto per riprendermi un attimino dal percorso, da tutto il viaggio in treno e poi si parte a camminare. La difficoltà di questo percorso, oltre al fatto che è molto più montuoso rispetto al Kungsleden dell'anno scorso, sarà il fatto che in Bulgaria non è così facile nemmeno rapportarsi con le persone locali, perché praticamente quasi nessuno parla inglese, men che meno italiano. Dovrò farmi capire un po' gesti, non lo so. È stato molto molto difficile anche pianificarlo per lo stesso identico motivo, perché online non si trovano informazioni in lingue comprensibili da me, ovvero inglese e magari altre, boh, tedesco, francese, qualcosina col traduttore, ma si trova giusto qualcosina su forum in lingua bulgara, che credetemi è tutto fuorché semplice perché è molto simile al cirillico, quindi al russo. È abbastanza difficile, quindi non so benissimo cosa mi aspetta, tutti i dettagli non sono riuscito a pianificarli come l'anno scorso, come aveva fatto Kungsleden che sapevo precisamente cosa aspettarmi ogni singolo giorno, quindi si vivrà un po' anche alla giornata, però è anche questo il bello dell'avventura. Altra informazione è che credo di essere uno tra i primi italiani, sono addirittura il primo italiano che percorre il Come Mine, quindi sono estremamente emozionato. Sono riuscito a parlare con qualche ragazzo bulgaro che ha effettuato il Come Mine e anche qualche gestore di questo percorso, e mi ha detto che a sua memoria non ha mai sentito che nessun italiano lo abbia mai percorso, ha conosciuto qualche tedesco, ha conosciuto qualche americano e qualche altra nazione, ma mai nessun italiano, quindi sono in questo caso emozionatissimo, se non sarò il primo comunque sarò veramente uno dei primi e questo veramente bellissimo. Speriamo di riuscire a completarlo, non è così scontato quest'anno, non è così scontato. Con questo brevissimo video volevo semplicemente illustrarvi un attimino, darvi un'idea di cosa andrò a fare quest'estate, e purtroppo in tutto questo periodo, tra fine luglio e le prime settimane di agosto, quando sarò là in Bulgaria in montagna, non avrò praticamente quasi mai copertura, quindi se mi scrivete vedete che non vi rispondo, non è perché ho abbandonato, non vi voglio rispondere, semplicemente sarò completamente fuori dalla copertura cellulare. Cercherò di fare il possibile quando rientro in una zona con copertura cellulare. Nei prossimi giorni cercherò magari anche di fare un video di tutta la nuova attrezzatura che ho dovuto acquistare per cercare di affrontare questo cammino. Ho dovuto fare molti nuovi acquisti e rinnovare parecchio tutta l'attrezzatura che avevo utilizzato per l'anno scorso perché ho dovuto ulteriormente alleggerirmi per cercare di affrontare questo cammino, perché l'anno scorso avevo un base weight dallo zaino di circa 6 kg e quest'anno ho dovuto veramente cercare di tagliare ancora di più, trovare altra attrezzatura molto ma molto più leggera, perché altrimenti sono sicuro che non ce la farò sicuramente a fare tutto questo cammino. E con questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao e buona estate!